Gentili telespettatori, buona giornata. Quando parlo di Maurizio Landini, Maurizio Landini provoca Giorgia Meloni. Lunedì le porterò un regalo. Beh, io se fossi in Giorgia Meloni, insomma, non sarei molto... Questo che ha parlato di insurrezione popolare e poi ti dice ti porto un regalo, un pacco magari chiuso con un fiocco, io sinceramente direi no no, stai lontano, 30 metri con quel pacco, visto che tu hai istigato all'insurrezione popolare contro di me, contro il governo, direi che prima di entrare dovete col metal detector controllarlo bene, perché io se fossi Meloni non mi fiderei di questo personaggio che istiga all'insurrezione popolare. Poi un personaggio del genere ti dice ti porto un regalo lunedì, io ti darei la disdetta, no no, guarda, stai a casa tua col tuo regalo, scartatelo da solo perché non ho bisogno di regali. E così lui, voi direte, ma scusate, ma non ha capito che quello che ha detto è una cosa di una gravità inaudita che comporta anche un reato, istigare la popolazione all'insurrezione contro il governo è un fatto grave che porta anche a diversi reati. Naturalmente ci sono 9.050 giudici in Italia, non ne ho sentito uno che abbia aperto un fascicolo delle indagini su Landini per istigazione alla rivolta contro gli organi centrali della Repubblica. Come mai? Come mai? Come vi indaffarate tanto per condannare Salvini? Poi quando arriva Landini che invoca l'insurrezione popolare o la Lamorgese che ferma delle navi per 11 giorni, nessuno dice niente. Ma la legge non è uguale per tutti. Chiedo per un mio amico che è qua che diceva ma mi ricordavo che c'era scritto così, eh ti ricordavi, altra storia. E quindi voi direte, ma scusate, Maurizio Landini oggi dovrebbe chiedere scusa, eh no, guarda, l'ho detto, ero arrabbiato un momento così che, insomma, ero abbastanza innervosito per una cosa, ho detto quella roba lì, ma è una sciocchezza, assolutamente io non penso a queste cose. No, lui fa anche lo spiritoso, il goliardico porto un regalo alla Meloni. Allora non ha capito la gravità delle sue parole, quindi non è in grado di capire quello che dice e la gravità delle cose che dice. E questo è un problema, perché Maurizio Landini può chiedere scusa se ha capito di aver sbagliato, ma se non capisce di aver sbagliato non può chiedere scusa. Elementare, Watson, no? E così Giorgia Meloni, intervenendo poi a un giorno da pecora, aveva poi detto che lei era mezza influenzata, che però non avendo proprio alle spalle tutte le sindacali andava a lavorare lo stesso. Apriti cielo, i vari Landini, le varie Schlein sono saltate sulla sedia. Cosa ha detto? Cosa ha detto? Cosa ha detto? Ha fatto una battuta. Rilassatevi, sedetevi, ha fatto una battuta. La Meloni dice che la convocazione dell'incontro a Palazzo Chigi è per lunedì alle nove. Ci saranno tanti sindacati. Ho visto l'elenco siamo arrivati a ben dodici sindacati, dice La Meloni. Io sono per la libertà sindacale, ma penso che come avviene in politica c'è un problema di rappresentanza. non è che sono tutti uguali, dice. E poi lo stesso Landini aggiunge la prima domanda sarà ci sono spazi di modifica della manovra? Ma Landini, hai indetto uno sciopero generale. Sei andato in piazza l'altro giorno prima di incontrare La Meloni, prima di sapere se ci sono spazi di modifica della manovra, quindi hai fatto uno sciopero preventivo, ideologico, propagandistico e adesso ti chiedi lunedì c'è spazio di modifica della manovra? Io se fossi La Meloni cancellerei la tua presenza, direi scusate dodici sindacati, facciamo undici perché uno ha minacciato l'insurrezione popolare, quindi io se fossi La Meloni direi sto aspettando i giudici e le indagini su Landini, però io non lo voglio vedere neanche da lontano, uno che incita la rivolta contro contro gli organi centrali dello Stato ed ha arresto immediato ed ha processo per direttissima, per tentativo di insurrezione. E come sei esagerato! E che paroloni! E sembrano paroloni perché siamo nella Repubblica delle Banane, ma se fossimo in un altro Stato serio io non avrei avuto bisogno di raccontare queste cose perché sarebbero già a processo queste persone tipo Landini. E poi aggiunge Landi, lo chiamo Landi, e diremo tutto ciò che è necessario cambiare. Uuuuh, caspiterina! A questo punto dopo aver incitato la rivolta nei giorni scorsi afferma Bombardieri porterà una calcolatrice? Stavo pensando di portare anch'io al Presidente del Consiglio un regalo, un libro, L'Uomo in Rivolta di Albert Camus. Vedete che non ha capito niente. Non ha capito niente. Non ha capito la gravità, la gravità delle sue parole e gli porta il libro L'Uomo in Rivolta fa anche l'ironico. Cioè non ha capito la gravità delle sue parole e fa pure l'ironico. Ai 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 mamma mia mamma mia mamma mia e poi dà un voto alla manovra. Allora la manovra apprezzata dalle agenzie di rating che hanno alzato il giudizio positivo sull'Italia lo spread data la manovra positiva è crollato ai minimi da quattro anni in più lo Stato ha emesso dei titoli di Stato per 13 miliardi c'è stata una richiesta 18 volte superiore 200 miliardi quindi la manovra è stata apprezzata moltissimo in Italia e in Europa e adesso vi racconterò il voto del signor Landini gli do quattro e sono buono perché si può sempre recuperare oggi c'è un governo violento che sta investendo nelle armi ah Landini ricordati che la democrazia va difesa non so se Landini si è accorto di quello che succede nel mondo l'Italia non è pronta a difendersi da un'invasione e può succedere un giorno come un altro quindi non è un'Italia violenta è un'Italia che come gli altri paesi sta cercando di riorganizzare la difesa quindi perché dire queste sciocchezze e poi i conduttori chiedono quindi lei parla di una rivolta pacifica e quando mai i sindacati non hanno operato in modo pacifico perché vabbè non aggiungo altro vi lascio a voi le risate se avete voglia di ridere grazie a tutti arrivederci a presto